Il tuo consulente agrometeo dirà il benvenuto su Agronotizie. Il tempo previsto dal 21 giugno al 2 luglio. Tre distinte fasi. Una breve fase tra il 21 e il 22. Arriva il 21 una perturbazione sul nord Italia e il 22 questa perturbazione porterà rovesci e temporali diffusi qua e là anche di forte intensità sulle regioni di nord-est, sulle regioni centrali. Invece sul meridione insiste ancora una certa area di inestabilità ma il meridione verrà raggiunto nella giornata del 23. Le temperature subiranno in questa prima fase del 21-22 un brusco calo soprattutto sul nord Italia. Temperature al di sotto della media su tutto il nord Italia. Seconda fase tra il 23 e il 26 di giugno. Un'alta pressione sull'Europa centrale si allunga su tutto il centro nord dell'Italia ove pertanto farà bel tempo anche se le temperature saranno in rialzo. Sulle regioni meridionali invece insiste un vortice di bassa pressione che è un vortice lasciato da quella perturbazione giunta nella giornata di tra giovedì e venerdì. Vortice di bassa pressione che darà luogo a una certa inestabilità pomeridiana contemporanea qua e là. Terza fase tra il 27 giugno e il 2 di luglio arriva l'anticiclone nordafricano nel senso che come potete vedere da queste immagini l'anticiclone nordafricano si allunga verso il Mediterraneo occidentale fino a saldarsi un tutt'uno con quell'anticiclone presente sull'Europa centro-occidentale dando luogo all'unico blocco che farà rialzare le temperature da prima tra il 27 e il 28 al centro-nord e il 29 di giugno anche sulle regioni meridionali. Non dovrebbe essere di forte intensità perché come vedete l'anomalia di questo anticiclone nordafricano ossia l'aumento di pressione portato in prossimità dell'Italia colore giallino significa un aumento moderato. Ma comunque dovremmo pensare che tra il 27 di giugno e il 2 di luglio le temperature massime su gran parte dell'Italia possono essere comprese tra 31 e 35 gradi. Quindi temperature decisamente al di sopra della norma. Termino qui. Un caro saluto ancora da Mario Giulianci. Dal pulsante sottostante puoi visualizzare le previsioni di casa tua.